Ciao a tutti, qui è Triface che vi parla e come sempre stream e gioco a Summoner Sword Chronicle Vi ricordo che mi potete trovare in stream su Twitch, altrimenti potete continuare a vedere gli altri miei video sul mio canale YouTube Se volete aiutarmi potete sempre iscrivervi o attivare la campanellina all'interno del mio canale Ciao a tutti, qui è Triface che vi parla e oggi invece voglio vedere con voi per l'appunto il PvP Intanto per iniziare il PvP si differisce in Arena della Sfida e Arena di Scontro E poi abbiamo anche il campo di battaglia Qual è la differenza netta? La prima è che questo è un PvP AFK Di qua potremo registrare il mio team, ossia nella squadra di difesa cosa noi mettiamo Perché? Perché in questo PvP ci sarà una fase d'attacco e una di difesa, benché sia offline Quindi metterò ovviamente i miei personaggi più buoni In questo modo da non poter perdere diciamo le partite e cercare di non derancare Perché ogni volta che ci sconfiggono in difesa, ossia qui dentro Loro ci possono togliere dei punti Motivo per il quale mettiamo una buona difesa Altrimenti se vogliamo guadagnare tanti punti la difesa mi raccomando sarà da mettere da un personaggio O anche uno scarso, tipo così Per poter essere sconfitti e poter fare da registro di battaglia la rivincita Fare la rivincita vuol dire avere una seconda possibilità per sconfiggere chi ci ha sconfitti In questo caso però non è il mio obiettivo scendere per adesso di rank Di conseguenza metterò i mostri per me migliori Quindi registro così Qui per esempio vediamo già un combattimento così possiamo capire un po' di cosa parliamo Ok per esempio qui Clef andrà di un tipo di arma in base alla situazione In questo caso non abbiamo nessun curatore L'arma rossa con Clef permette di togliere le cure Di conseguenza qui non essendoci cure non è necessario usare un'arma da cura Qui abbiamo una Sekmet che sicuramente ci toglierà i buff E un assassino che cercherà sicuramente di romperci uno dei nostri mostri Perché è quello che fanno gli assassini E un personaggio che mette scudi come Bustet su un tank Quindi in questo caso l'arma migliore soprattutto contro la gatta Potrebbe essere quella di fuoco per la gatta Ma in questo caso noi andremo in modalità più difensiva Ossia con l'arma d'acqua che mette l'attack break e anche gli scudi in più a noi E di conseguenza potremo counterare la gatta con le difese E Sekmet che cercherà continuamente di farci danno Quindi i due personaggi che ci faranno danno sicuramente sono questi Per quanto riguarda i mostri mi raccomando su Clef in questo caso avremo sicuramente una Bustet Cerchiamo sempre di mettere una Bustet e un Lulu Ci garantiranno una Backlane Ossia qualcuno di supporto in grado di farci sopravvivere In questo caso la Frontlane saremo noi Ossia quelli che siamo davanti perché noi siamo il tank Cosa che cambierebbe nel caso in cui fossimo una Kina o una Maga Quindi andiamo col tank mettiamo Bustet, Lulu e poi dobbiamo mettere assolutamente un personaggio da danno Io in questo caso metterò giù uno perché è un altro supporto e nonostante sia un supporto comunque fa dei danni atroci Perché toglie buff quindi riesce a strippare se sentite questo termine vuol dire riuscire in qualche modo a tirare di giù gli avversari E in più riesce anche a darci supporto con le cure Di conseguenza per me secondo me il team migliore almeno per quanto riguarda l'early game E non il late mi raccomando l'early game Questo dovrebbe essere un buon team Cerchiamo di capire cosa vuol dire Stiamo in modalità FK quindi l'avversario non sa che lo stiamo attaccando Noi stiamo combattendo contro un computer Di conseguenza cerchiamo basta Insomma basta focussare il personaggio giusto e avremo la vittoria Io andrò contro Naomi Vedete Naomi come cerca di attaccare il mio personaggio E cercherò di tauntarlo Questo perché è l'obiettivo del mio personaggio Cioè prendere la sua attenzione Anche ovviamente il tank avversario fa la stessa cosa Dopodiché cerchiamo sempre di andare in soul link con Basset e con lo scudo Lo scudo in pvp è una delle cose più buggate che c'è Perché non è una cura è uno scudo Quindi l'unico modo per toglierci lo scudo è avere un personaggio che tolga beneficial effect Fatto questo come potete vedere sto salvando praticamente la mia Juno Oracle Ecco qui Juno che toglie per l'appunto tutti i buff a tutti i nemici Cerchiamo sempre di prendere di mira il nostro nemico Il nostro nemico in questo caso è la gatta più del tank Perché il tank da solo non può sconfiggere i miei personaggi Fatto questo ovviamente il secondo focus ricade sul secondo carry di lui In questo caso sarebbe Sekhmet Tolta Sekhmet e lui non ha più capacità di farci danno Di conseguenza in un pvp quello che bisogna capire non è solo l'arma in base alla situazione Non è solo i personaggi in base alla situazione Ma anche quello che noi dobbiamo assolutamente prendere in considerazione come mostro focus Quindi in questo caso prenderemo sempre come focus il carry nemico Piuttosto che prendere come focus un healer, un tank Stesso ragionamento comunque possiamo usarlo tranquillamente nell'arena di scontro Quindi nell'arena di scontro mi raccomando dobbiamo cercare di capire i pick e i counter pick Quindi in questo caso facciamo un esempio Qui siamo in real time quindi sarà come altri pvp dove ci sono i ban pick e i pick Ok vediamo insieme Tanto per iniziare abbiamo una china con elemento rosso quindi punterà tantissimo i danni L'arma peggiore che si può avere contro è la darkness più che la light tendenzialmente Perché la darkness rianima continuamente ma anche la light ci può creare problemi Io per adesso bannerò la light perché in elo basso la darkness si usa di meno Si usa molto di più la light quindi bannerò la light per non dargli le cure Fin tanto che lei non ha cure io posso stripare qualcuno dei suoi tipo sekmet o altre cose usando l'arma d'acqua O andare con l'arma luce nel caso in cui usasse un argen o una gatta o qualcosa così Quindi sceglierò l'arma light per adesso Poi cambierò l'arma all'interno del fight Ok prima avremo una modalità selezione quindi e poi una modalità ban Qui dovrò selezionare i miei personaggi Io seleziono di norma sempre Bastet e Juno per assicurarmele Perché tendenzialmente se ha preso sekmet potrebbe anche prendere un Bastet o Juno Come vedete ha usato la gatta Mi va benissimo io dovrei usare Lulu E in secondo luogo mi hanno tolto ovviamente la gatta Comunque il mio stripper in questo caso è Juno Quindi potrei mettere argen solo per fargli capire che voglio attaccarli argen Il ragionamento sarebbe quello Sì penso proprio che userò argen anche perché è l'unico che mi fa danni in questo caso Quindi Ok hanno messo 5 personaggi Una volta erano solo 4 Non so il perché siano 5 adesso Di conseguenza scegliamo anche un quinto personaggio Non sapevo sta questione Ok sceglierò lui Però realmente non sapevo fossero 5 personaggi Lo sto vedendo solo oggi questo Quindi devo bannare un personaggio Il personaggio più da bannare ovviamente è la gatta Cioè io gli banno quello che fa il danno Lei mi ha bannato quello che fa le cure Seleziona uno dei tuoi mostri da escludere In questo caso selezionerei più il mio pinguino perché io sono il tank Quindi c'è la modalità anche ban Ok sul mio mostro c'è il mostro che non devo usare In questo caso utilizzerò Bustet che mi dà gli scudi perché Già mi ha tolto le cure maggiori E cerchiamo di andare nel fight Abbiamo un tank contro e l'unico stripper che c'ha effettivamente è Sekhmet Quindi cerchiamo di Focussarli Sekhmet Ok come potete vedere in realtà il suo curatore era già schiattato Quindi in questo caso vi ricordo che servirebbe anche guardare Gli HP di chi ci sta combattendo Vedete gli HP in questo caso Della healer perché il nostro Argen sta facendo tutto il lavoro Non sono messi bene Ok Argen mio è buildato in modalità danno a distanza Quindi hanno avuto comunque difficoltà a focussarlo Però in questo caso andava capito Chi aveva meno HP per tirarlo subito giù E anche di capire chi fosse il suo stripper Che era solo Sekhmet Quindi io ho focussato solo Sekhmet A tutto il resto ci ha pensato Argen Io non ho fatto altro Quindi mi raccomando quando entriamo in PvP Dobbiamo capire chi ci può fare danno Chi ci può tirare giù E dobbiamo counterarlo noi Con l'arma light Con qualsiasi arma che sia in base all'elemento giusto E in base alla tipologia del personaggio In seguito abbiamo 5 pick E mi raccomando in 5 pick Il quinto personaggio è solo per baitare il nemico Quindi abbiamo una modalità pick Una modalità ban Sia dell'arma che quindi anche dei personaggi E poi abbiamo una modalità di soul link In quel caso ho usato il soul link su Bastet Quindi per quanto riguarda il tank Mi raccomando Il modo migliore di vincere è sopravvivere E continuamente attaccare il loro carry Andiamo invece a vedere qualche build interessante di mostri I mostri più utilizzati quindi col tank Sono sicuramente la Bastet E l'Hulu Non da sottovalutare come carry Nel caso in cui ci bannassero Argen Come carry possiamo usare anche Naomi Per fare i danni O anche la stessa Juno La Juno non va buildata effettivamente solo con tasso critico e danno critico Ma anche con PV Personaggi come la Gat Mi raccomando dovrebbero avere almeno 35-40 mila di vita Per poter sopportare i danni degli nostri avversari Perché essendo assassini vanno alla carica E quindi devono sopportare i danni Quindi mi raccomando i personaggi di tipo assassino Buildarli non solo danno ma anche HP Se è per i PVP Stessa roba Argen Argen con 30 mila HP In realtà sono pochi Va buildato con 40 mila HP E tutto il resto tasso critico e danno critico Un po' di resistenza e tutto il resto Quindi i personaggi del tipo in PVP Vanno buildati con rune sicuramente critiche Ma i bonus all'interno devono essere perfetti Almeno a 3 Quindi 3 su 4 bonus devono essere perfetti Questo che vuol dire che il PVP è più complicato del PV E da questo punto di vista Dobbiamo sicuramente avere delle rune Che tendenzialmente devono essere rollate di continuo Ed essere quelle buone E invece per quanto riguarda altri mostri Con il tank potrebbe essere tranquillamente Il capitano pirata Perché? Perché il capitano pirata È una versione di Basset un po' particolare Non mette scudi Ma in grado di mettere Rest Break Oltretutto per 2 volte E anche di mettere Death Break e Attack Up Quindi è sia un supporto che un debuffer Se questo lo buildiamo full tank E ha la capacità di applicare sempre debuff e buff Sul nostro team Rendendoci praticamente distruttivi contro il nemico Quindi il nemico si ritrova sempre con le difese a zero Grazie a lui Lui è uno dei personaggi molto molto utilizzati in PVP Mi raccomando cerchiamo di buildarlo se vogliamo andare in PVP L'Arcangelo sicuramente si usa in PVE come personaggio Però si può anche usare in PVP E ci dà la capacità di curarci continuamente Perché tutte e due le spell sono cure Oltretutto ci curano in base alla nostra difesa Quindi il nostro tank sicuramente non potrebbe essere sconfitto Ed è una cura continua Non è una cura singola Quindi ci permette di curarci nel tempo di continuo Però il personaggio più utilizzato con il nostro Clef In questo caso come healer e supporto È sicuramente la ragazza occulta Se non abbiamo Lulu Se vogliamo sopravvivere in PVP Soprattutto in late game Si utilizzerà molto di più Anavel Perché Anavel è in grado Grazie a questa mossa Di rimuovere un effetto CC Come passiva Cioè lei ogni 5 secondi ci toglie una passiva Ogni 5 secondi è buonissimo come tempo Come passiva Ed è un'ottima passiva Dal fatto stesso che ci toglie un CC In PVP mi raccomando Non dimentichiamoci di Sekhmet Sekhmet è in grado di togliere tutti i buff nemici Motivo per il quale è molto molto utilizzata Si è buildata con i danni Oltre che togliere i buff Fa anche molto molto danno E oltretutto anche ad Ewi Un altro personaggio usato Nel caso in cui usassimo per l'appunto La gatta Sekhmet E venissero bannati In qualche modo potremmo usare anche Ifrit Ifrit Fire Ovviamente è quello più usato nella modalità danno Perché è in grado di applicare l'oblio L'oblio è un debuff utilizzato Soprattutto contro i tank Perché gli impedisce di applicare Le loro passive Quindi in questo caso io non potrei applicare L'endure che mi rende immortale Perché mi ha applicato oblio Quindi Ifrit è un altro personaggio Scusatemi tesario Un altro personaggio da pvp Carry Questo è per quanto riguarda i carry Per quanto abbiamo visto invece i curatori Mi raccomando Anavel E per quanto riguarda invece i buff o debuff Sicuramente Bastet e Capitano Pirata Sono tra i più utilizzati Possiamo anche vedere un altro personaggio Perdonatemi in front lane In questo caso Quindi come danno Anche il Rescimmia Rescimmia è ottimo come personaggio davanti Perché è in grado di applicare il Death Break Oltre che essere comunque un elemento verde Quindi molto utilizzato contro Anavel Contro Lulu Contro Ariel Contro qualsiasi elemento d'acqua Quindi cerchiamo anche di ricordare Che gli elementi sono molto importanti Quindi se vogliamo un altro personaggio front lane Sicuramente il nostro Rescimmia verde Io con questo ho terminato Nel caso in cui vi servisse ancora aiuto Mi trovate sempre in stream su Twitch Altrimenti potete continuare a vedere i miei video su YouTube Grazie della visione